Gentili telespettatori, buona giornata. I giornali di centro-sinistra si scatenano dicendo la Meloni non accetta la commissione di inchiesta sul dossieraggio. I giornali fiancheggiatori della sinistra però non sanno bene come attaccarla perché dice prima la volevi fare, adesso non la volevi fare, dici di no a Salvini, a Nordio, a Crosetto, perché? Insomma non sanno neanche bene come attaccare la Meloni però cercano di cavalcare questa notizia che la Meloni dice no all'ipotesi di una commissione di inchiesta. Perché la soluzione che era stata sostenuta dalla Lega e lanciata anche da Nordio e appoggiata dal ministro della difesa Crosetto, Fratelli l'Italia dice, con la premier Giorgia Meloni, di no. Contraria la Meloni a una soluzione che avrebbe potuto determinare un nuovo scontro con la magistratura. Ecco, questo è il punto. C'è già la commissione antimafia, c'è la magistratura che sta indagando fare una commissione d'inchiesta parlamentare come quella sul Covid perché la commissione d'inchiesta ha assolutamente un potere inquirente, cioè ha gli stessi poteri della magistratura una commissione d'inchiesta e questo porterebbe ovviamente a uno scontro perché se il governo istituisce una commissione d'inchiesta è perché probabilmente non si fida della magistratura. Ecco, il quadro è questo. C'è un dossieraggio dove si ipotizza un legame tra magistratura e giornali, spionaggio dove gli spiati sono principalmente politici di centrodestra e nessun politico del PD. C'è chi dice ma c'è dentro anche Conte, Renzi. Sì, ma quelli sono avversari del PD. Il centrodestra è nemico del PD, quelli sono soci ma avversari del PD. Renzi voleva fare le scarpe al PD, Conte vuole anche lui diventare il capo del centrosinistra. Quindi guardate un po' le coincidenze perché stiamo parlando ancora oggi di coincidenze. Le coincidenze vogliono che nessun politico del PD sia stato spiato, mentre tutti gli altri intorno sì. E poi si parla di un giornale dove il proprietario e la tessera, dicono la tessera numero uno del PD, dove i suoi giornalisti guarda un po', chiamavano e telefonavano questo qua che spiava e facevano poi articoli contro il centrodestra. Capite che tutte queste coincidenze messe insieme, più sapendo quello che è successo tra Palamara che complottava per tirar giù Salvini, ministro eletto. Capite che ci sono un po' troppe coincidenze che portano a immaginare tante cose che però non sono dimostrabili e io credo che non lo saranno mai. Scordatevi che il dossieraggio porti al mandante X e al mandante Y. Non ci si arriverà mai. Tutti lo dicono, Sallusti, commentatori. Quando si parla di sinistra, perché i mandanti sono a sinistra, ovviamente non si arriverà a nessun mandante. E per questo la Meloni dice aspettiamo, c'è la magistratura perché se andiamo a fare una commissione d'inchiesta è chiaro che non ci fidiamo della magistratura e facciamo una cosa parallela e andremo allo scontro. Ecco, il punto è proprio questo. Quindi il no di Giorgia Meloni non è nient'altro che evitare uno scontro con la magistratura che poi sarebbe cavalcato dalla sinistra, direbbero si sentono perseguitati, si credono perseguitati, la Meloni cerca nemici tutti i giorni, che poi è la solita frasetta che dice la Schley, la Meloni tutti i giorni cerca un nemico. Il dossieraggio andrebbe in secondo piano perché la narrazione della sinistra, dove c'è dentro il mandante o i mandanti, la narrazione della sinistra sarebbe che il centrodestra, prima delle elezioni europee, continua a cercare mandanti immaginari perché pensano che ce l'hanno con loro, invece dentro c'è Conte, la fidanzata di Conte, Renzi, Fedez, l'allenatore Allegri, Ronaldo. Capite, cercheranno di spostare il dibattito sul fanno finta di essere perseguitati per le elezioni europee, invece il dossieraggio è una cavolata, tra virgolette una cavolata. Invece è una cosa molto grave che io credo sia un qualcosa che va avanti da sempre, diciamo che il dossieraggio c'è stato sempre, c'è e ci sarà anche in futuro. Fa proprio parte del modo di operare di una certa politica, di una parte della magistratura, di una parte dei giornali, certo questo fa parte di quel potere occulto che ha la sinistra. La sinistra in tanti decenni di governo ha messo in campo e ha costruito degli apparati in grado di sorreggerla, solo che oggi questi apparati, gli apparati sono delle strutture nascoste, tutti questi sostenitori della sinistra, fiancheggiatori, facenti parti magari anche del deep state, cioè lo stato profondo, quindi delle strutture nelle fondamenta dello stato che hanno tentato e tentano di ribaltare la situazione, di far tornare a vincere la sinistra. Oggi diventa sempre più faticoso per loro far funzionare queste macchine nascoste, occulte, ci provano, ma poi avete visto che la Meloni sta governando. Ecco, denunce, inchieste, non so se avete visto Vannacci, quando ha detto scendo in politica, prima promosso, come dire ti promuoviamo così e la smetti di voler scendere in politica, quando lui è stato poi promosso e ha continuato a dire scendo in politica, a quel punto è stato demansionato, è stato denunciato, è stato indagato, la procura di qui, la procura di là, hai rimborsi, ti sei fregato gli sordi, insomma, diciamo che indagato per istigazione all'odio razziale. Quando Vannacci ha detto scendo in politica si è scatenato il finimondo. Quindi capite che ci sono troppe coincidenze. Arrivederci a tutti e grazie.